Come nascono i personaggi di Antonio e Agostino? Bella domanda. Ha qualcosa di molto personale. Nascono molti anni fa, diciamo nel 2010, quando vivevo all'estero, vivevo a Londra, e ho iniziato a interessarmi un po' alla vita che fanno gli italiani all'estero, quindi quello che facevo anch'io. Quindi Antonio ha qualcosa di estremamente personale, quindi è il mio alter ego, in qualche modo. C'è qualcosa che poi ovviamente è rielaborato, rifatto, eccetera. Agostino è forse la storia di un mio carissimo amico che è declinato, ovviamente, ci ho lavorato sopra per trasformarlo in quello che è diventato poi, ma originariamente appunto nasce da lì. Una delle cose belle di questo film, perché ce ne sono tante, è che rivendica, quasi con una certa militanza, il ritorno alle proprie origini, ai propri luoghi, alla propria terra. Quanto è importante per voi il legame con la vostra terra, le vostre origini, la vostra, scusate il termine un po' desueto, madre-patria? Per me è abbastanza fondamentale, nel senso che le radici sono la parte più importante, sono quella cosa che ti tiene radicato per terra e che ti aiuta, quindi, sia nei momenti in cui le cose funzionano e c'è un vento forte che rischia di portarti troppo alto e che ti tiene radicato a quello che sei quando le cose non funzionano per niente, hai mille dubbi e comunque sai chi sei, nonostante ci siano periodi in cui magari nessuno te lo riconosce più o non te lo riconosce per come vorresti tu, insomma. Quindi sia come essere umano che come attore penso che sia fondamentale per non rincoglionirsi anche, che può essere una cosa molto brutta per un attore. Oggi il termine patria non è desueto ma è abusato, è abusato ed è anche declinato, credo, in maniera troppo superficiale, troppo semplice. Io da piccolo ho fatto un vecchio motto anarchico che diceva patria nostra è il mondo intero, questo non significa non amare il luogo in cui si è nati, non significa non amare e non essere riconoscenti con la terra che ti ha dato i Natali, che ti ha insegnato una lingua, che ti ha passato delle tradizioni, significa invece fare proprie, far proprio tutto quel bagaglio che rappresenta la cultura di ogni singolo individuo ma sapere che il mondo è grande, che il mondo è fatto di possibilità, che la casa è un concetto declinabile, che sia il luogo in cui nasci ma anche un luogo che ti accoglie, che ti sembra distante, che la casa è un essere umano, che la casa è un'idea, quindi in questo senso dico che questo concetto di patria è abusato perché è molto più vasto, ha molto più respiro e credo che in questo film si racconti molto bene. Perché la scelta del road movie? È un genere che mi ha sempre affascinato, da sempre. Ci sono tantissimi road movie che potrei citare e non lo faccio, ma l'idea del road movie è anche il desiderio di libertà. Puoi raccontare comunque una... Hai la possibilità di raccontare tramite un viaggio, il desiderio di evadere, e il desiderio appunto di conoscere, di incontrare e di soddisfare una curiosità, di incontrare appunto delle persone nuove, dei luoghi nuovi, che possono in qualche modo suscitare stimoli. Che significa per voi fare un film on the road, sulla strada? Tu hai fatto verso la strada di casa, quella strada, dentro poi quel tir? No, noi in strada ci siamo proprio stati. Nel senso che questo film è un on the road nella misura in cui è un film poverissimo, in cui siamo stati in strada, di notte, senza permessi, a girare, a spingere le macchine che si erano fermate perché non c'era la benzina. Questo ci ha ricondotto un po' a un inizio che ci ha anche fatto stringere tantissimo, però che da un certo punto di vista è deprimente, perché penso che oggi si faccia con grande facilità tanti esempi del cinema italiano rispetto all'estero. Abbiamo dei mezzi insufficienti. Noi la strada la amiamo, però vorremmo anche che questa strada percorresse direzioni anche diverse, perché secondo me ce lo meritiamo, perché facciamo bene il nostro mestiere, perché ci sono dei professionisti che dovrebbero poter avere grandi mezzi, come quel tir per percorrere strade che ci fanno cominciare un po' a correre. Per fortuna veniamo entrambi da esperienze e formazioni teatrali, che quindi insomma di strada ne avevamo già fatta tanta per le tournée, e quindi ci siamo, fa parte del nostro DNA in qualche modo. Stare sulla strada per me è anche un'idea di movimento continuo, di non fermarsi mai, che ogni luogo in cui ti fermi, ogni piccola sosta che fai non è mai un punto d'arrivo, ma è una ripartenza ed è un'altra strada da percorrere, nuova di cui non sai niente. Secondo me è un po' anche come intendo questo mestiere, nel senso che non credo che ci siano dei punti d'arrivo per un attore, ma ci sono solo delle possibilità di crescita e di poter percorrere strade nuove e penso che questa sia un'altra cosa che unisce molto noi due, nel senso che siamo due che mi sembra non andiamo mai a ripercorrere la stessa strada che abbiamo fatto.